Pronti? Ovvio. Non ho idea di cosa stia succedendo. No, davvero. Che ci facciamo qui? Io dico, ci sarà un motivo se ci hanno portato nel deserto, no? Ma lo senti? Oh, c... Ma che... Una roba tipo... Capito? Non ci credo. Dovrei guidare lassù. Non esiste. Oh, mio Dio. È stato davvero pazzesco. Una follia, bro. No, vabbè. Sono pieno di polvere. No, vabbè. Grazie a tutti